Allora io credo che siamo in un momento estremamente importante per l'ICT, per tutto il settore dell'industria qui in Italia con due fenomeni che sono rilevanti e che vanno sicuramente messi in risalto sia l'attenzione del nuovo governo verso i temi dell'agenda digitale che sembra essere in grado di rilanciare speriamo in maniera efficace e a questo punto anche fattiva tutte le iniziative che sono state messe in pista dal precedente governo nell'anno precedente e il tema dell'iniziativa di Telecom Italia di societarizzazione della parte di rete di accesso. Sono degli elementi secondo me importanti che devono mettere in circolo in maniera a questo punto definitiva la possibilità di creare sia domanda e offerta, offerta e domanda in un circolo che sia di tipo virtuoso investimenti da parte del pubblico che con la parte di socializzazione della rete di Telecom probabilmente potrebbero essere incrementati e la creazione di quella domanda laddove le iniziative a livello di government, a livello di digitalizzazione della pubblica amministrazione possono generare e quindi stimolare l'intero settore, l'intera industria della quale speriamo di poter beneficiare in quanto parte di tutta la filiera al fine di poter mettere in pratica tutta la parte di innovazione che è tanta e che ahimè ancora è da sfruttare in pieno.